La sanità credo che sia un tema che interessa tutta la collettività, come tante altre cose, ma la sanità in primis, chi non prova anche delle esperienze quotidiane e a volte trova anche delle delusioni, quindi il nostro sforzo, lo sforzo deve essere fatto in particolar modo per coloro che hanno queste necessità. Non è più possibile in una realtà come la nostra, con le condizioni che ci sono, di poter fare delle file in attesa di visite, dobbiamo far sì che l'organizzazione sanitaria si programmi per dare al cittadino maggiore esistenza e che anche il tempo che utilizza appunto per poter avere delle prestazioni, sino dei tempi contenuti e non delle lungaggini. Queste credo siano le risposte che i cittadini debbono e aspettano.